Benvenuti, buonasera, siamo qui con voi, siamo a passone di moda con la nostra stylist Cristina Candela. Abbiamo due stupende e meravigliose modelle, Tiziana e Sonia. Vedrete la nuova collezione estate 2017, una creazione di outfit apposta anche per voi e seguiteci e non mancate. La stylist sta preparando un outfit per la modella Sonia, intanto voglio dire che sono vestita anche io da passione di moda con questo bellissimo outfit creato proprio dalla nostra stylist. La pettinatura devo ringraziare Francesca Provedi e Idea in testa, mentre la Gardenia e Nadia Damora mi hanno truccato, quindi abbiamo diciamo tutto un appartire d'eccezione. Allora vediamo un attivino cosa sta prendendo Cristina Candela per appunto vestire Sonia. Un abito bellissimo in Georgette, rosa cipria, di pizzo. Come abbenerà la stylist gli abiti da cerimonia? Sonia indossa un abito di coralline, un abito di seta, Georgette e pizzo. Un abito per tutte le cerimonie. Molto ma molto romantico. Ora Cristina abbenerà un paio di scarpe color blu che spezzano appunto il colore rosa cipria del vestito. Vedremo abbinato anche una stola sempre per spezzare il colore blu. Bene, abbiamo visto ora Sonia con il suo outfit bellissimo. Ora proseguiamo con un altro outfit con la modella Tiziana e vediamo Cristina Candela, la nostra stylist, cosa ci propone. La seconda proposta di Cristina Candela, la nostra stylist, è un abito marcato Sharon, asimmetrico, lungo dietro e corto davanti. E ora Cristina per questo outfit sempre da cerimonia, sempre elegante, vi abbenerà le scarpe con brillantini svaroschi. Cristina ora abbenerà all'outfit un bracciale con cristalli, un cappellino che si può indossare per ogni occasione e soprattutto per le cerimonie. E per finire viene abbinata una stola sempre del colore dell'abito. L'abito che ci presenta Tiziana è un abito marcato Sharon asimmetrico, in tulle, con ricamo in pizzo, velo e chiffon. Si chiude così questa puntata, questo fashion blog con Cristina Candela e questo è solo un assaggio della collezione da cerimonia primavera-estate 2017, come vedete con l'outfit di Tiziana e di Sonia. Cristina Candela veste tutte le taglie, compreso le curvi, quindi non vi resta altro che tornare da noi. Ciao! Grazie a tutti!